in questo video utilizziamo il tool di stock picking azionario di zegos per andare a vedere se ci sono ancora dei titoli con dei fondamentali interessanti ma al contempo delle valutazioni interessanti spesso io eseguo questa selezione per vedere quanto il mercato sia ormai arrivato tanto meno è elevato il numero di titoli con valutazioni interessanti e fondamentali buoni tanto più vuol dire che il mercato è sostanzialmente arrivato quindi procediamo con una semplice selezione in cui andiamo a selezionare i titoli con zegos score per esempio superiore a 62 che è un valore diciamo medio per identificare i titoli con dei buoni fondamentali e al contempo andiamo a selezionare i titoli all'interno di questo campione con delle valutazioni interessanti che quindi hanno uno score di valutazione diciamo maggiore di 70 spingiamo il tasto search e andiamo a identificare in tutto il mondo quindi mercato europeo mercato italiano mercato americano solamente otto titoli questi sono stellantis region financial corp altria 3m international consolidated airline centenne baxter international e barclays è un portafoglio se vogliamo anche piuttosto diversificato in cui appunto quello che potrà distinguere questi titoli è la con presenza di fondamentali ok e di valutazioni tuttora relativamente interessanti ma questo per dire che gran parte dei titoli con fondamentali buoni va quota ormai a valutazioni stretch a valutazioni piuttosto elevate questo pone un campanello d'allarme solo otto titoli ripeto solo otto titoli sul l'intero mercato europeo ed americano che hanno la compresenza di valutazioni interessanti e di fondamentali interessanti questo tool di stock picking azionario di zegos può essere preso in prova per un periodo di tempo di 15 giorni in prova gratuita se volete prenderlo in prova scrivete a info chiocciolazegos.com 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 chiocciolazegos.com